La notizia era già nell'aria da alcuni giorni, ma è arrivata adesso l'ufficialità. Giovanni Martello è il nuovo direttore sportivo dell'Enna Calcio, una figura di spessore e di grande esperienza che sicuramente darà un contributo importante alla crescita societaria e tecnica della squadra gialloverde. La sua carriera da DS è partita proprio dal capologo ennese nei primi anni 2000 per proseguire poi tra le tante squadre con Agragas, Gela, Siracusa e Ribera. Adesso il ritorno nella squadra della sua città. Ritorno da dove sono partito, quindi sono estremamente contento, sono molto 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 felice di ritornare a casa dopo 15 anni se non ricordo male. Sicuramente è un impegno che mi coinvolgerà emotivamente perché Enna è la mia città e la mia squadra del cuore, quindi non posso che essere felice al di là della categoria. Quale sarà la tua linea? Guarda, io intanto al di là della rosa, che ora con il mister cercheremo di approfondire meglio, vorrei sottolineare l'impegno della società, mi ha colpito l'organizzazione di questa società ed è quello che mi ha spinto poi ad accettare questo incarico, perché il calcio è uguale a tutti i livelli, bisogna solo cercare di farlo con la massima professionalità possibile. Questa società sicuramente non naviga nell'oro, non ci sono paperonte e paperoni, però è estremamente organizzata, alle idee chiare e quindi penso che si possa lavorare molto serenamente e molto proficuamente. Poi la cosa molto importante è l'affetto che c'è attorno a questa società, i tifosi con cui è un rapporto splendido sono un'arma in più da sfruttare, da coltivare, da sicuramente tenere in grande considerazione nel rispetto sempre dei ruoli.